In collaborazione con Antica Cantina di Canelli Lo hanno identificato grazie al DNA prelevato dai mozziconi di sigarette lasciate sul luogo del colpo. Mohamed Bela, 30 anni di origini albanesi, è stato catturato dai carabinieri per il clamoroso furto di tubature in rame e fili elettrici all'ex clinica San Giuseppe. Il malvivente già con diversi precedenti penali alloggiava con la famiglia negli ex ambulatori della SL occupati abusivamente in via Orfanotrofio proprio a due passi dalla clinica. Il valore della refurtiva era di almeno 300 mila euro. Il ladro si sarebbe sistemato per giorni nella clinica in disuso e dopo aver asportato tutto grazie alla collaborazione dei familiari ha rivenduto il materiale a commercianti di rame del Cuneese. Sentiamo. Stamattina all'alba i carabinieri nucleooperativi a reti mobile a compiene di Asti hanno eseguito questo mandato di cattura che è stato emesso dal Tribunale di Asti su richiesta del produttore capo del dottor Vitari e nel corso delle perquisizioni abbiamo trovato il materiale del cosiddetto perfetto scassinatore, si così può dire, tra l'altro anche con pistola finta che dà un po' il quadro della situazione. Sì, sicuramente si sono impossessati della clinica e hanno lavorato lasciando le guaine dei fili per terra e spelando tutto quello che poteva essere di loro interesse, quindi recuperando rame sia per quanto riguarda gli impianti elettrici che per quanto riguarda gli impianti medicali che in clinica ovviamente erano importanti. Le indagini sono iniziate nel giugno scorso, l'indomani della denuncia da parte della direttrice dell'ex clinica che al momento denuncia un furto di rame per un valore commerciale di 300 mila euro. È stato fatto da persone di nucleo investigativo un accurato sopra il luogo, nel corso di sopra il luogo sono stati ripartati ben 6 mozziconi in sigarette e sono stati poi mandati al RIS. Lì è stato il primo indizio che ci ha portato poi all'arresto di questo signore, questo albanese pregiudicato. E questi sono giorni importanti per gli schieramenti in Lizza per le elezioni del 6-7 maggio che determineranno la scelta del sindaco di Asti. Entro martedì alle 12 devono essere depositate le candidature e le varie liste stanno raccogliendo le sottoscrizioni. L'Italia dei Valori che appoggerà Fabrizio Brignolo, ad esempio, oggi era in Piazza del Paglio dove proseguirà la raccolta delle sottoscrizioni, sabato anche sotto i portici. I anfossi con l'Italia dei Valori hanno già reso pubblici i nomi dei candidati e altre due liste che appoggiano Brignolo, il Partito Democratico naturalmente, ed i moderati. Ed anche l'altra candidata a sindaco, Mariangela Cotto, ha reso note le sue due liste con tutti i nomi di Noi per Asti ed Asti Più con la peculiarità di avere in ugual misura candidati uomini e candidate donne. Ed ora torniamo al Vinitali di Verona che quest'anno potrebbe rivelarsi il punto di ripartenza dell'enologia piemontese e soprattutto speriamo anche a Stigiana. Sentiamo. Anche Cantina Sociale di Canelli è stata presente al Vinitali di Verona. Quest'anno è stato accorciato il periodo di esposizione. Si è trattato comunque di un bel Vinitali anche perché i movimenti sul vino si stanno intensificando. Questo è un bene. Sì, in effetti diciamo che questo è un Vinitali positivo complessivamente. È stato un Vinitali positivo perché dal nostro punto di vista ci siamo da tantissimi anni. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare i nostri importatori, i nostri clienti. Il riscontro è buono, abbiamo la speranza di confermare i risultati, i dati dell'anno appena trascorso e questo per noi è già un risultato decisamente positivo. Il vino incontra in questo periodo una stagione felice e diciamo che anche i prezzi alla base aumentano, però complessivamente c'è un trend positivo, un trend positivo che guarda specialmente al mondo, all'esportazione e questo altrettanto è un elemento di facilità per i bilanci delle aziende. Riteniamo nel complesso questo Vinitali un Vinitali felice per noi, con buoni risultati. stiamo studiando dei nuovi prodotti e pensiamo che attraverso i contatti, le discussioni e gli accordi con tutte le persone che hanno visitato il nostro stand e con i loro suggerimenti si possa pensare alla presentazione dei nuovi prodotti durante questa stagione. E con questo anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci come sempre alle prossime edizioni. in collaborazione con Antica Cantina di Canelli